forza dai vai va bene va benissimo va benissimo sei andato lontano eh va bene va bene lasciala lì lasciala lì vieni con due mani però eh con due mani a tenerla provaci mettiti a posto bene ok dai vado va bene tienila 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 dai matte dai matte eh concentrato dai a tenerla eh devi volere questo pallone eh dipende da te andiamo bravissimo vedi che basta volerlo dai ridammela dai a tenerla eh a tenerla a tenerla eh devi volere questa palla di chi è questo pallone eh allora prendilo vai forza bravissimo dai eh tutto così tienila adesso andiamo un po' più larghi eh vacci con due mani sempre fa niente se non la tieni ma provaci eh bene a posto piega le ginocchia sui talloni un pochino e su un po' il busto troppo basso dai vola colpa mia colpa mia questa era altissima dai dai ma va bene l'importante hai fatto il tuffo tu distenditi eh se non ci arrivi fa niente forza eh mettiti dritto 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 no vedi che è dritto verso il campo ok un pelo più lontano se no apri sei già dentro il nastro dai vola va bene bravo dai dai matte forza eh apro e spingo va benissimo va benissimo sono larghe eh io te le metto larghe apposta eh se prendi quella è una gran parata eh con due mani distenti forza eh ci sei dai vola dai 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 ma sei partito un po' lento eh a me hai scivolato dalle mani ma tu sei stato un po' lento dai più veloce più veloce forza matte forza matte come prima devi volere sta palla è tua forza con due mani con due mani come prima non serviva qua mano di richiamo eh e adesso troppo troppo basso troppo basso allontano il pelo troppo basso troppo basso ok vai dai forza bravo ecco così devi volerla sta palla eh dai dai forza eh piega piega le ginocchia le mani non sono appoggiate eh non neanche lì qui davanti e stringi un po' i gomiti verso ok dai vola va bene va bene qua ci poteva anche stare ma c'eri con due mani eh dai forza forza matte forza matte forza matte forza matte piega le ginocchia e spingo forte dai va bene va bene dai ancora qualcuna dai matte matte devi piegare di più e spingere forte dai dai forza eh più veloce più veloce piega le ginocchia voglia di andare a prendere sta palla dai forza ancora qualcuna con due mani con due mani come prima è sempre tuo questo pallone eh devi volerlo dai piega andiamo buono ti devo tirare le mozzarella per fartele prendere eh dai forza 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 devi anche rischiare un po' eh non solo tenere le mozzarella dai forza piega andiamo va bene di più eh più laterale devi spingere eh più laterale sei caduto quasi in piedi dai voglia di far strada dai matte voglia di far strada matte forza piega andiamo spingi va bene va bene con due mani con due mani quante volte te lo devo dire dai dai con due mani con due mani forza forza matte forza matte e tu ho il pallone e tu ho il pallone eh e tu ho il pallone dai buono bravo dai dai oh ve ne devi prendere una un po' più larga eh stenditi bene dai forza 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 dai andiamo dai perché con una mano vacci con due vacci con due te l'ho messa a larga apposta vacci lo stesso con due dai con due matte concentrato con due mani con due mani di chi è sta palla e allora prendila dai forza vola va bene bravo bevi ah non ce l'hai l'acqua non ce l'hai l'acqua Grazie.